Altre polemiche all'Aquila per un convegno organizzato domani alle 18 a Palazzetto dei Nobili dal titolo Italia Coloniale, il colonialismo italiano tra storia e leggianda nera. Un evento patrocinato dal Comune che rientra nelle iniziative dell'Aquila Capitale della Cultura, fatto che sta scatenando mille polemiche, l'ira di rifondazione comunista ma anche dell'Ampia e del consigliere Simona Giannangeli, a cui ha ribattuto Claudio Pagliariccio, consigliere comunale in quota a Fratelli d'Italia, ad organizzare il convegno all'associazione Piazza Fonte Secco. Il Comune dell'Aquila ha deciso di dare il patrocinio a una conferenza pseudo-storica di riabilitazione del colonialismo italiano, del colonialismo fascista, che ha causato in Africa più di 500.000 vittime, commettendo crimini inenarrabili che andrebbero raccontati agli studenti nelle nostre scuole. Invece il Comune, nel 2024, con costituzione antifascista vigente, autorizza, patrocina la conferenza di un'organizzazione, di un'associazione che fa parte del network, della nota organizzazione neofascista Casa Pound, coinvolta tra l'altro anche in tantissimi processi relativi ad episodi di violenza e di squadrismo. E' una vergogna per la nostra regione che Biondi abbia trasformato l'Aquila in un avamposto del neofascismo italiano. Al delirante comunicato di una persona che fa il segretario di un partito che non è ancora la parola comunista, non varrebbe neanche la pena di rispondere. Detto questo, le critiche di acervo all'amministrazione comunale sono assolutamente incomprensibili. Parliamo di un evento inserito nel programma estivo del Comune dell'Aquila, a seguito di valutazione di una commissione tecnica e non di un organo politico. Inoltre, fare il processo alle intenzioni per una conferenza che ancora non viene svolta è assolutamente inaccettabile. L'associazione che ha organizzato intanto difende l'appuntamento che vedrà presente Alberto Alpozzi, reporter di guerra e saggista. Si darà spazio con la sua presenza a documenti e fatti concreti, hanno detto, considerando che lui è autore della trilogia Bugie Coloniali, dedicata all'epopea degli italiani in Africa.